Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Notizie dal web e non solo, di oggi 29 giugno, mercoledì. L'altro tema su cui stiamo lavorando è il rifinanziamento della legge speciale. Qui abbiamo chiesto fortemente al governo per il rifinanziamento di questa legge perché è del tutto evidente che quest'area ha bisogno di attenzioni e di cure che altre aree non ha bisogno. Non sento gli spieghi perché questa è un'area meravigliosa, straordinaria, bellissima, ma altrettanto facile. E quindi Bata 7 è una legge che era nata proprio per la specificità di quest'area meravigliosa. Oggi non ha motivo di non essere rifinanziata perché non vede i problemi siano ottimisti. Tra l'altro noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare sui marginamenti in finale dell'angolare. Anche qui la parte che manda è quella che è lo Stato. sono un'area che è quasi famoso, anche io non avevo fatto tutte le pressioni nel caso perché si arrivi a contattamento del metro. Perché questo ci consentirebbe poi finalmente di dare tutto lo sviluppo che viene da tutta l'area di Porto Panera e quindi una puntabilizzazione, questa simpositiva, anche di tenere interessato. Anche ieri sera un gruppo di Tursiopi si è spinto all'interno della foce del Brenta. Sembra che si tratti di una famigliola composta da due adulti e da un piccolo. A testimonianza dell'evento una ripresa fatta con il telefonino. Sicuramente il gruppo di ieri fa parte di un branco più numeroso, avvistato frequentemente di passaggio del litorale di Isola Verde, quasi sempre in transito da nord a sud, passando dalla foce del Brenta a quella dell'Adige. Sono ormai anni che i delfini, probabilmente Tursiopi, frequentano il litorale di Isola Verde, ma secondo i gestori dei bagni Smeraldo non erano mai stati visti entrare all'interno del fiume Brenta. Probabilmente non c'è nulla da stupirsi, considerando ormai che il mare entra nel Brenta per decine di chilometri. Settimane fa i medi europei davano notizia di un'orca che si era inoltrata all'interno della Senna per molti chilometri, purtroppo perdendo poi la vita. Isola Verde rappresenta sempre più un oasi di biodiversità tra flora e fauna. Tra i volatili più importanti non mancano le famiglie di cigni. Anni fa ci fu anche un avvistamento di una foca. Tra i volatili più importanti non mancano le famiglie di città. Tra i volatili più importanti non mancano le famiglie di città. Continuano gli incendi a Isola Verde sulle sterpaglie secche che si accumulano sui campi incolti e abbandonati. Fuoco spesso acceso volontariamente o involontariamente da una mano umana. Forse chi appicca il fuoco non comprende la pericolosità che può nascondersi dietro un simile gesto. Il fuoco può animarsi al primo colpo di vento e infiammare le vicine sterpi, senza considerare la difficoltà che ci può essere nello spegnere le fiamme, soprattutto ora che i fossi sono asciutti e l'erba secca può infiammarsi in un attimo. Può essere messa a repentaglio la vita stessa di chi opera, che comunque, essendo impegnato in un'operazione che si poteva evitare, non può operare in altri frangenti, magari dove il suo intervento avrebbe potuto essere essenziale. Accendere un fuoco incontrollato ora, in questo momento in cui ogni filo d'erba secca può essere una miccia, è solo che da criminali. grande lavoro per i pompieri scaligieri un paio di notti fa, intervenuti a Zevio in via dell'artigianato per un vasto incendio che ha coinvolto un'azienda produttrice di articoli tecnici industriali in gomma. Le fiamme sono divampate attorno l'una e mezza, hanno coinvolto due capannoni dell'azienda che si sviluppano per circa 1800 metri quadrati. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Caldiero, Bardolino e Verona, con i volontari di Bovolone, con tre autopompe, tre autobotti, un'autoscala e 19 operatori, hanno lavorato tutta la notte per ci scoscrivere e spegnere il rogo. Bruciati due capannoni di cui sono collassati entrambi i tetti, evitato il coinvolgimento di una vicina abitazione. Sul posto i carabinieri, personale dell'ARPAV per il monitoraggio dell'aria e il sindaco di Zevio. Ieri pomeriggio erano ancora in corso le operazioni di bonifica. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. Allora siamo al Bigoli, voi non so se lo sapete, io non lo sapevo, ci sono anche i bussola integrali, fatti con farina integrale. Come sono questi, Franco? Buonissimi, integrali. Ma come puoi dire la composizione? Semplici farina integrale. Perfetto. Un po' di sale e un po' di strutto. Forno storico di rilavena, vi aspettiamo per il bussola integrale. Numerosi, numerosi. Grazie, ciao. Ieri sera si è tenuta una riunione presso la sala meeting dell'hotel Ettenue a Sottomarina, in cui Beniamino Bosco ha evidenziato la mole di lavoro portata avanti in questi anni dall'ente bilaterale Veneto, anche grazie alla collaborazione con le grandi associazioni del territorio. Presenti, infatti, interlocutori, la Presidente del Consorzio Turistico Lidi di Chioggia, Consorzio riconosciuto dalla Regione Veneto Elena Boscolo Nata, Roberta Gandolfo in rappresentanza di Confesercenti, Giuliano Boscolo per ASA, Associazione Albergatori, e Giorgio Bellemo per l'Associazione dei Balneari, ASCOT. Tutti loro hanno sempre sostenuto le attività dell'ente bilaterale Veneto, promuovendo i vantaggi che questo offre e condividendo con i loro associati le possibilità che l'ente propone. I numeri sono la prova tangibile del lavoro a beneficio delle aziende e delle persone che in queste lavorano e parlano chiaro. Sono state date varie opportunità in questi ultimi anni, sostenendo le aziende anche nel duro periodo Covid. Gli aiuti che si possono ottenere spaziano in una vasta rosa ed è un peccato non usufruirne. ultimo incontro con l'autore a Corte Salasco a Cavanella d'Adige, questa sera a partire dalle ore 21. La sede è la casa dell'Associazione di Corte Salasco in piazza Baldin e Mantovan. L'autore è Loris Porzionato e il libro è Donne, Bambini e Uomini in Guerra. SD Auto Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 29 giugno, è a Lido in Viale Padova, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Grazie a tutti!